Ciao, sono il dottor Max, in questa serie di video trattiamo i sintomi delle varie malattie o patologie. In questo video analizziamo il sintomo. Aortite, cause e sintomi. La ortite è un'infiammazione dell'arteria aorta. Tale infiammazione può interessare tutto lo spessore della parete aortica, intima, media e adventizia. Possibili conseguenze della ortite sono l'occlusione dell'aorta o dei suoi rami. Inoltre, in alcuni casi, l'indebolimento della parete arteriosa può causare un aneurisma. La ortite può essere causata da malattie infettive o dalla propagazione di un processo flogistico. Tra le forme infettive di aortite, quelle batteriche e fungine interessano, di solito, i segmenti di aorta già sede di patologie, esempio aneurismi o le protesi vascolari. La ortite può manifestarsi in caso di endocardite infettiva o di sifilide terziaria, stadio finale della malattia sifilitica, oggi raramente raggiunto. In rarissimi casi, è una complicanza della tubercolosi. Le aortite non infettive, invece, possono derivare da patologie del tessuto connettivo, tra cui l'arterite di Takayasu, l'arterite temporale e la spondilite anchilosante. L'infiammazione dell'arteria aorta, inoltre, può essere conseguenza di patologie autoimmuni sistemiche, come l'artrite reumatoide, il lupus eritematoso sistemico, la sindrome di Reiter e la malattia di B7. Possibili cause di aortite. Aortite è un sintomo comune o probabile di queste malattie. Cause rare. Aneurisma aortico, artrite reumatoide, endocardite infettiva, lupus eritematoso sistemico, sifilide, spondilite anchilosante, tubercolosi. Grazie per avermi seguito fino a qui, le informazioni riportate sono solo indicativo e vanno approfondite con il medico di fiducia. Spero di esserti stato utile, metti un mi piace e iscriviti al canale, sarà informato sui nuovi argomenti trattati sulla tua salute. Fonte.